Buongiorno, benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo di una classe particolare che si chiama Object. Cos'è la classe Object? Allora sembra un'antinomia, nel senso che una classe è un oggetto, ma in realtà in Java esiste una classe che si chiama esattamente Object. Quali sono le caratteristiche? Allora sostanzialmente la classe Object è stata pensata in Java per essere la super classe di tutte le classi che esistono. Quindi in pratica tutte le volte che noi andiamo a dichiarare una classe senza andare a specificare da quale classe estende, implicitamente il compilatore aggiunge una dichiarazione del tipo Extends Object. Quindi ogni classe di fatto estende Object, o direttamente oppure indirettamente in base attraverso quella che è la sua classe di base. Quali sono le motivazioni per avere questa classe di base? Sostanzialmente, innanzitutto, in termini di generalità, noi abbiamo la possibilità, utilizzando il polimorfismo, di poter vedere qualunque oggetto di qualunque classe come un oggetto di classe Object. E quindi i riferimenti di tipo Object rappresentano quelli che sono dei puntatori universali. Inoltre abbiamo la possibilità, inserendo dentro la classe Object opportuni metodi, di avere dei comportamenti che sono comuni a qualunque oggetto io vada ad avere in Java. Ovviamente queste operazioni avranno un funzionamento base all'interno della classe Object e potranno essere ridefinite tramite degli override in tutte le sottoclassi. In termini di generalità, dicevamo, quindi, io posso andare a vedere un oggetto di una qualunque classe attraverso un riferimento di tipo Object. Quindi io posso comunque sempre contare sulla possibilità del compilatore di fare un upcast, ricordiamoci, andiamo verso l'alto, a un riferimento di tipo Object. In pratica i riferimenti di tipo Object in Java giocano lo stesso ruolo che avevano i riferimenti di tipo Void in C. Per cui, in pratica, posso ad esempio andare ad avere una raccolta di oggetti messa dentro un array tipo Object in cui metto delle stringhe, degli impiegati, degli interi e dei numeri. Attenzione che devo utilizzare i tpwrapper. Se non uso dei tpwrapper, come in questo caso, implicitamente c'è un meccanismo di autoboxing. Quindi il compilatore in realtà qui mi inserisce di nascosto un new integer di 42. A questo punto posso tranquillamente andare a fare un ciclo su tutti gli oggetti. Quindi, se andiamo a rivisitare la nostra gerarchia impiegato, manager e CEO, ecco, impiegato in realtà implicitamente erita da Object. Abbiamo detto che Object può definire una serie di meccanismi comuni che sono utili, metodi che sono sostanzialmente posizionati all'interno della classe. I principali metodi definiti dentro la classe Object sono principalmente il metodo string, il metodo toString che permette di convertire un oggetto in una sua rappresentazione stringa, il metodo equals che permette di andare a confrontare il contenuto di oggetti, il metodo hashCode che restituisce un codice unico e poi ci sono un paio di metodi protetti, clone e finalize, che vedremo poi più avanti. Iniziamo dal metodo toString che è quello più utilizzato in maniera universale. Il suo obiettivo è quello di andare a restituire una rappresentazione in formato stringa di un oggetto in modo che possa essere stampato. L'implementazione di default che è fornita dentro la classe Object sostanzialmente restituisce il nome della classe, una chiocciola e poi quello che è il codice di hash, restituito dal metodo hashCode in formato esadecimale. Ad esempio se abbiamo la classe employee dentro il package.org, quello che otteniamo è org.employee, chiocciola e poi hashCode. Il metodo equals invece va a verificare, è pensato per andare a verificare l'uguaglianza tra due oggetti. Ovviamente all'interno della classe Object è impossibile sapere come saranno fatte le classi derivate e quindi viene data un'implementazione molto di base che sostanzialmente ricade nell'andare a confrontare i riferimenti. Per cui se io non ridefinisco il metodo equals in una classe derivata, per forza l'uguale uguale ed equals mi daranno lo stesso risultato, quindi andrò a fare un confronto semplicemente sull'uguaglianza dei riferimenti e non sull'uguaglianza dei contenuti. Quindi è necessario andare a ridefinire il metodo equals in modo da confrontare quelli che sono i contenuti. Quali sono le regole che devo seguire andando a ridefinire il metodo equals? Sostanzialmente devo ricordarmi che il metodo equals deve essere riflessivo, quindi x deve essere uguale a se stesso. Deve essere simmetrico, quindi se x è uguale a y anche che y deve essere uguale a x, deve essere transitivo, quindi se x è uguale a y, y è uguale a z, allora x deve essere uguale a z. Deve essere soprattutto consistente, ovvero se io chiamo il metodo equals più volte su un oggetto, questo mi deve restituire sempre lo stesso risultato, ovvero o falso. Quindi in generale dovrei utilizzare all'interno del metodo equals semplicemente informazioni che non possono essere cambiate. Per cui il metodo equals funziona benissimo con gli oggetti della libreria di base, tipo il wrapper oppure le classi string, perché sono oggetti immutabili. Quindi una volta che ho appurato che due oggetti sono uguali, il loro contenuto non può essere cambiato e quindi resteranno uguali per sempre. Inoltre il metodo equals deve essere robusto e deve andare a restituirmi un valore falso quando cerco di confrontare un oggetto con null. Ecco un esempio di metodo equals per la classe employee. Allora, innanzitutto un'osservazione importante deve essere fatta considerando il parametro del metodo equals. Il parametro del metodo equals è un oggetto di tipo object. perché? Perché essendo definito dentro la classe object non può che avere un altro tipo di parametro. Quindi io non posso andare ad accedere agli attributi di un qualunque oggetto tramite un riferimento di tipo object. Devo fare un'operazione di cast. Questo è un classico downcast, quindi deve essere esplicito. Ovviamente il downcast potrebbe non essere sicuro, per cui prima di fare il downcast devo andare a verificare se o è un instance of di employee, la classe in cui sto andando a ridefinire il mio metodo equals. E se o non è un'istanza di employee, restituisco semplicemente falso. Quindi se cerco di confrontare un impiegato con un oggetto di un altro tipo, il risultato è che sostanzialmente ho false. Se io non mettessi questo controllo prima di fare il downcast, il rischio sarebbe quello di avere un class cast exception. Invece così garantisco un minimo di sicurezza in più. Una volta che ho fatto il downcast dal parametro al riferimento other, posso semplicemente andare a confrontare this.name equals other.name. Quindi vado sostanzialmente a confrontare i nomi dei due impiegati. Se i nomi sono identici, allora considero che anche gli impiegati siano uguali. Attenzione, questo metodo equals che vedete chiamato qua non è lo stesso che sto scrivendo qui, quindi non è una chiamata ricorsiva. Questo metodo equals è il metodo equals definito dentro stringa. Infatti name è un di tipo stringa. Quindi vado a chiamare il metodo equals per come è ridefinito dentro la classe stringa. Sono sostanzialmente due ridefinizioni, quella che vediamo qua e quella che è definita dentro stringa, sono due override dello stesso metodo definito originariamente dentro la classe object. Però sono due metodi chiaramente distinti. Il meccanismo del dynamic binding in questo caso trova la ridefinizione dentro string e se invece chiamo il metodo equals su due oggetti, troverà questa definizione che stiamo vedendo ora dentro la classe employee. Attenzione, avevamo detto anche che il metodo equals deve poter dare un risultato falso quando cerco di confrontare un oggetto con null e in effetti instance of quando cerco di fare un'operazione di null instance of di qualunque cosa il risultato è comunque falso. Quindi questo primo test oltre ad andare a scartare i confronti con oggetti che non sono del tipo corretto, mi elimina anche la possibilità di andare a confronti con null e quindi mi restituisce in entrambi i casi un risultato di falso. Abbiamo poi parlato del metodo hash code che sostanzialmente è pensato per restituire quello che è un codice circa unico per l'oggetto che può essere utilizzato come indice all'interno di tabelle di hash. Non approfondisco il concetto di tabelle di hash anche perché i dettagli non ci interessano. Per chi ha fatto dei corsi di algoritmi e programmazione avanzata sicuramente sa di cosa si tratta. L'implementazione di default che è definita dentro object normalmente restituisce l'indirizzo dell'oggetto all'interno della memoria dinamica. In generale è buona norma andare a ridefinire questo metodo nelle classi che possono essere utilizzate all'interno di tabelle di hash. Quali sono i criteri per andare a definire questo metodo? Sostanzialmente il metodo hash code deve essere consistente col metodo equals, nel senso che devono essere verificate queste condizioni. Sostanzialmente se due oggetti x e y sono uguali, quindi il metodo equals restituisce true, allora è necessario che anche i loro codici di hash siano uguali. Quindi equals ed hash code dovrebbero basarsi sugli stessi attributi degli oggetti per il calcolo. E se gli hash code di due oggetti sono uguali, allora è possibile, ma non è strettamente necessario, che anche i due oggetti siano uguali. Se due oggetti non sono uguali non c'è nessun requisito su gli hash code. Potrebbero essere diversi, potrebbero essere uguali, è indifferente. Se gli hash code invece sono diversi è necessario che i due oggetti non siano uguali. Quindi chi domina sostanzialmente è l'uguaglianza tra gli oggetti che implica l'uguaglianza tra gli hash code. Non è vero il viceversa. A questo punto vediamo in generale come possiamo utilizzare i metodi che abbiamo appena descritto. Un esempio è dato dal metodo print e anche da println che sta dentro l'oggetto out della classe system. Print che cosa fa? Quando viene chiamato con un parametro object sostanzialmente chiama il metodo toString del parametro che gli viene passato e quindi sostanzialmente è in grado di stampare il contenuto di un oggetto utilizzando il metodo toString. Quindi chiamare print di e dove è un impiegato equivale a chiamare print di e toString. Quindi e toString mi restituisce una stringa e quindi mi stampa la stringa. Print di e sostanzialmente chiama il toString e poi stampa la stringa risultato. È ovvio che se io ho ridefinito il metodo toString della classe employee ottengo un certo risultato. Se invece non l'ho ridefinito otterrò sostanzialmente la stampa di employee, chiocciola e poi un numero decimale che normalmente corrisponde all'indirizzo in memoria dell'oggetto employee. Un altro uso dell'object è quando io ho un numero variabile di parametri. Io posso andare a mettere ad esempio print list che può essere chiamata in questo modo print list, metto una stringa che è un prefisso e poi ho un numero variabile di parametri che sono indicate con object puntini 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 args. Esattamente come per la lista di variabile di parametri di tipi primitivi, questa lista variabile di parametri all'interno di questo metodo verrà vista esattamente come un array di object e quindi posso andare a costruire un'iterazione su tutti gli elementi di questo array, ad esempio andandoli a stampare con un print. Ovviamente il print in questo caso cosa fa? Chiama il metodo toString dell'oggetto. risultato, se io chiamo print list, list due punti, a, b, 1, 2, 3, i, cosa succede? Che ho come stampa list due punti e poi tutti questi elementi separati da virgola. Attenzione, qui quando ho 1, 2, 3, il valore che viene passato, oppure quando ho b, non è il tipo primitivo ma bensì l'oggetto character che viene costruito a partire da b e per 1, 2, 3 la stessa cosa, avrò un oggetto che viene costruito a partire dal valore. In effetti devo avere un array di oggetti e quindi devo avere degli oggetti, non dei tipi primitivi. L'autoboxing, quindi la capacità del compilatore automaticamente di convertire un tipo primitivo nel corrispondente oggetto wrapper, viene sfruttato in questo caso. È un qualcosa che è comodo ma che deve essere tenuto in considerazione perché è un'operazione, come la creazione di qualunque oggetto, un'operazione costosa e quindi se l'operazione viene eseguita molto spesso rischiamo di non vedere direttamente nel codice un'operazione che invece è costosa e quindi può occupare memoria e può richiedere più tempo. Quindi in generale attenzione tutte le volte che abbiamo dei possibili autoboxing che sono nascosti. Quindi abbiamo visto come nel linguaggio Java esiste una classe speciale che si chiama object che è la base di tutte le classi. Questa classe ci dà due caratteristiche fondamentali. Uno ci dà un modo di andare a utilizzare un riferimento di tipo generale che è in grado di puntare a qualunque tipo di oggetto, un esempio lo vediamo qua. L'altra caratteristica importante della classe object è che ci fornisce una serie di metodi standard, toString, equals ed hashcode, che possono essere ridefiniti e spesso devono essere ridefiniti nelle classi derivate. Qual è il vantaggio di averli definiti dentro la classe object? È che io, senza sapere nulla, posso scrivere dei metodi generici che prendono un object e chiamano il metodo toString o metodo equals. A questo punto abbiamo a disposizione questa classe e dovremo utilizzarla in maniera appropriata tutte le volte che noi andiamo a definire una nuova classe e valutando se è il caso di ridefinire il metodo toString e se è il caso di ridefinire il metodo equals ed eventualmente anche il metodo hashcode.